. Fabrizio Frizzi si trova lì e apostrofo, Carlotta Mantovane il commovente messaggio sul marito. La giornalista ha ritrovato il sorriso grazie alla figlia Stella. . Dopo la prematura scomparsa del marito, Carlotta Mantovane è riuscita a reagire grazie alla presenza della figlia Stella. La moglie di Fabrizio Frizzi è abbastanza attiva su Instagram pubblicando diverse foto che la ritraggono insieme alla sua dolce metà. . Oltre agli scatti con la figlioletta, alcune ore fa la conduttrice di tutta salute ha postato unimmagine che toglie il respiro, ovvero un tramonto che trasmette serenità. . . Naturalmente lo scatto in questione ha ricevuto tanti mi piace e commenti da parte dei seguaci. . Ma la vedova di Fabrizio qualche giorno fa è stata pizzicata da diva e donna, andiamo a vedere di cosa è successo. . Carlotta Mantovan con lo sguardo triste e cupo. . Qualche giorno fa Carlotta Mantovan ha trascorso un pomeriggio in un parco di Roma. . La vedova di Fabrizio Frizzi è stata fotografata dal noto settimanale di gossip di va e donna mentre passeggiava. . La giornalista, però, aveva uno sguardo molto triste e pensieroso, in più era da sola. . Erano trascorsi pochi giorni dal 61esimo compleanno del marito e, molto probabilmente la donna era in pensiero per il brutto momento che ha vissuto in questo ultimo anno. . Carlotta Mantovan e il meraviglioso scatto su Instagram. . . Ma ritornando al post pubblicato ieri sera da Carlotta Mantovan sul suo profilo Instagram scatenando, lo scatto del tramonto ha scatenato una serie di reazioni da parte dei follower. . Questultimi, infatti, oltre a mettere dei likes hanno lasciato dei teneri commenti. . . . La giornalista non ha scritto nessuna didascalia ma solo questi hashtag, Cancelletto Sunse Cancelletto Place Cancelletto Heart Cancelletto Nature Cancelletto Non Filter Needed Cancelletto Power Cancelletto Sol Cancelletto Green Cancelletto Peace Cancelletto Paradisi E Cancelletto Air Cancelletto Feeling Cancelletto Vindo Cancelletto Rai of Liget Cancelletto Sunse Cancelletto Recharge Cancelletto Taketime. . . Qualche istante dopo i seguaci della madre di Stella hanno ipotizzato che Carlotta volesse mandare un messaggio al marito Fabrizio. . Infatti in molti le hanno scritto che Frizia è lassù in mezzo a quelle nuvole e che veglia su di lei è la piccola Stella. . . . . . . . . Ciao